.... e' da' serbi a tutti sono deteni e' benvenuti in questo nuovissimo cazzo di video siamo tutti contenti felice perché siamo felici 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 Ok ragazzi, ci troviamo qui su Trackmania Nations Forever Endeavor Alon, ok Alon Famo la pista LSD, NASCAR LSD NASCAR Non ce l'ho Ah È il numero 10 Ah, LSD NASCAR, ok Partecipa Partecipa Allora ragazzi, di cosa tra... Brasile, Brasile Brasile Ragazzi, inoltre c'è questa schermata Bisogna dire Brasile Devo vedere quello che non stanno già giocando, ok Eh, perché sennò ci tocca aspettare Stanno già giocando Ok ragazzi, come vedete È un gioco di macchinette Di piccoli carte Stai a fare un bordello con la tastiera Che neanche immagini Oddio, cosa ho fatto? Perché sei lì fermo in mezzo alla strada, scusa? Perché sto abbassendo il numero Abbassendo, sì Hai Wither Boy Hai The Player 96 Chi è? Chi è sto... Sto... Tizio qui Adesso senti? Eh, no Ok ragazzi, come vedete È un giochino molto molto particolare Eh, ma va? È un giochino molto strano Perché Eh... Ogni server Ogni server ha le proprie mappe Eh, hai visto? Mi è gasa sta mappa Sì, pure a me è carina È carina che sì Perché ragazzi, mappe tutte erano create appunto dagli addi Eh sì, eh sì Quindi possono fare salite, curve Salti Gire della morte E tutto Ed è tutto Ecco Ma mi stanno prendendo per il culo Eh, non lo so Mi sa di sì Ok ragazzi, è finita la gara Tanto adesso dovrebbe ricominciare Ciao a tutti Ciao a tutti No, comunque ragazzi Se volete vedere le gare Eh sì, eh sì Faremo dei live su Twitch Sempre se li volete Eh Eh Scrivetevi sui commenti Brasile Brasile Se volete Se volete che facciamo dei live vari Oddio che mappa è Non lo so, è epica Epica che sì Non ho messo incazzato Non ho messo tutti i suoni perché possono spuntare Dei, dei, delle musiche Esatto Tipo prima mi è spuntato No, no, che dobbiamo la copiere Come si chiama il gruppo? Non ho dimenticato Non lo so Comunque Il clacson Tenti più clacson Oddio che cazzo di risalto ho fatto Io sai che non so dove devo andare Se non è un po' caso Eppure io Dopo io Quello che ragazzi Come ha detto Davide Se volete che famo delle gare in live Dei, dei mega tornei Così ce lo dite Noi vi accontenteremo Noi facciamo io Conto dei pay 96 Eh sì Creiamo un server al momento Tanto si può creare direttamente da gioco Senza problemi Sì perché ragazzi Volevamo fare La modalità co-op Di Portal 2 Però Essendo che l'abbiamo comprato Su Torrent C'è il piccolo problema Che Non ci fa giocare online C'è il metodo Ma tra di noi Non ci connette Non si sa il motivo Quindi ragazzi Cacca Quindi facciamo l'amore no? Eh sì Oh Meno 5 secondi Ma perché c'è Perché c'è gente che va contro mano? Ancora non l'ho capito Non lo so Ma dove sei? So primo Sei primo So primo So primo No so primo io Sì no Secondo è Luca X, X, Z Eh E so primo io No so primo io A me dice primo dei player 96 Cazzo tu Cazzo stai a dita E non ci stai neanche in classifica Guarda che stai il cito Oh non è che siamo in due server diversi E vado no Meno 7 secondi No sono nono adesso Eh E io so quarto Ero veramente primo Mi hai fatto rallentare E no E ne no che sì È brutta sta mappa Veramente Ah intanto ragazzi C'è una cosa da dire Purtroppo la pastcraft Per un pochino Ok c'è ancora un episodio a caricare Quindi quello arriverà entro massimo Pochi giorni E purtroppo Dato che Timothy ma dei problemi Non riusciamo a sentirci su TS Non possiamo registrare di conseguenza E di conseguenza Non ci saranno per un pochino Episodi di Della pastcraft Adesso vedremo come fare Nel caso Se proprio Timo non riesce più a registrare Andremo avanti solo nei due Però ragazzi È ancora tutto da vedere Oddio prendo il volo E vola col Brasile E il Brasile vola Intenzionamente Eh sì Eh sì Tanto ragazzi Speriamo di trovare qualche mappa Tipo Parkour Sì perché a volte si trovano Delle mappe parkour In stile Ma vuoi si è a tempo Lo devi fa bene Devo andare Devo correre Eh sì È a sfida a tempo Ah Ma vuoi di quattro minuti Io pensavo che devo sorpassare tutti No Eh no È so sesto No no È mo È successa la cacca Allora Quello 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 Dato Oddio Sono volato nell'universo profondo Ok allora aspetta Eh Allora Il play che ha fatto Che è arrivato È 33 secondi 72 Cosa stai dicendo Oh fai tab E fa tab Che sì 33 72 E io 3578 Come fai a saperlo Eh c'è scritto il mio nome Ah ok 3577 Come vedete qua La schermata è un macello È un macello Cioè veramente ragazzi Ci sono 200 schermate in una Come vedete Eh aspetta Se riesco a appendere il mouse Dov'è Devo riuscire a giocare con un tasto Ok vedete Qui il mouse C'è Witherboy Qui c'è il tempo Qui non so cosa sia Il current Ah ok Il tracciato Intanto mi sono quasi ribaltato Qui c'è il tempo Se non lo sei te Qui ci sono le scale Spettatori Player in partita Quanto tempo dura La partita Quanti tracciati sono Dobbiamo fare 61 tracciati Quanti visitatori Sono entrati in questa mappa Se vuoi aggiungerle ai preferiti Se vuoi pagare 100 copper Per il replay 150 copper Per schippare Cioè ragazzi Se vogliamo saltare una gara Clicchiamo qua Poi c'è il live ranking Ovvero i punteggi In punteggi Cioè no I tempi Più che altro Non lo so Questo qua sotto Sono tutti i serve No Le gare Le prossime gare Queste sono le prossime gare Poi abbiamo Il menu Il rejoin L'LSD web L'LSD oval league Quanti In che posizione stiamo I record locali Della mappa E il LSD D-d record Che non ho idea cosa sia Poi sotto Vediamo La nostra velocità Cioè vuoi dire che andiamo 400 all'ora Con questa macchinetta E si Guarda 500 Ah Cioè ragazzi Spero che quelli siano Millimetri al secondo Perché altrimenti Se sono veramente Kilometri orari Qua c'è Cioè Non mi sembra che stia Andando a 500 Perchè Cosa Mi sei Cioè non so Mi sei bloccato Sono dodicesimo Non è vero C'è sta ESMA ESMA è decimo Io sono nono No tu sei settimo Io non sto più capendo niente Ragazza aiuto L'ho già detto La faccenda di portal Oddio Aspè Sì perché ragazzi La seconda volta Che proviamo a registrare il video Io devo dire alcune cose Ma non so Comunque se no L'ho detto Volevamo Nel caso l'ho ridetto Ragazzi scusate L'ho detto Vabbè E quello di La passcraft Sì l'ho detto Sì sì Ragazzi Ma è messo sta mappa Eh sì Cambiamo server Sì Sì Ok usciamo ragazzi Che sta mappa Fa leggermente sky Ok consigliare Andiamo su Speed Attack Dai Speed Attack Partecipa Brasile Tanto ragazzi Fammo un'altra garetta Poi direi De chiudere qui il video Era giusto Poi ragazzi Se volete vedere Altre gare Fateci un applauso Nei commenti No non è vero Lasciate Questa è stupenda Mamma Questi quelli che fai i vo Perché è tutto oscuro Al massimo Ok Sì che sono i vo La velocità del turbo turbante Perché io mi turbo il pensiero del turbanto Oddio 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 Cosa sto combinando No 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 tu sei Che figo Sto stas Sto stas Sto stas Sto stas Che stai a combinare Ma tu che sbatto un mondo Finale cosa ho detto in brasile e io non ce la posso farlo mere balto è il volo è il volo è il volando volando tra le stelle mamma mia che backflip e torna dritto poi te devi guardare il video no no poi te devi guardare il mio video che backflip ho fatto e non mi interessa e sì che ti interessa e no che sì e no oddio mi sono volato nell'universo gigante tutto ribaltato il mondo universante è meglio che ricomincio va mamma mia che scherchetto front flip tanto ragazzi vi consigliamo veramente questo gioco perché c'è da sclerare da ridere sono ventesimo ecco questo da sclerare cioè qua 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 c'è un brasile ma che primo che stai ultimo stai ribaltato e mo e mo sono cazzi tua ma è possibile che non gliela fa fare il salto giusto qua il giro del giro del cac ragazzi ma questo è il minimo perché abbiamo ancora certe mappe bellissime ti ricordi quella che c'era il giro della morte totale mamma mia non ci capivo niente e neanche io ma qua si arriva alla fine della mappa che te schianti a velocità il lampo si marcatroio decimo sto no devo riprovare quanto abbiamo abbiamo due minuti ragazzi finiamo questi due minuti anzi che sono tre quasi poi stoppiamo il video stavolta ho fatto bene ho fatto bene ho fatto bene ho fatto bene che si sono pensi duesimo sono nono ragazzi io so il pene ho sete a urlare io mi viene sete a urlare dove sto dove sto tanto ragazzi se volete incontrarci su questo gioco o fare qualche partita insieme a noi se qualcuno c'ha voglia di scaricare questo gioco quando andremo in live magari creiamo un server e ve facciamo entrare e se volete e se non volete c'è gioco io no io l'avevo fatta ho fatto un corkscrew 180 non ce la fai che no devo fare 38.03 sto già a fare 35 ancora metà gara e io sto a fare più 21 secondi di prima no ricomincio quando vedo che supero di troppo il tempo ricomincio ma io non gliela fa fare il giro del cazzo lei e io ce la faccio invece e no io mi ribalto sai che sono handicappato nei salti ecco ecco e te lamenti poi te lamentai con me ragazzi se ce la faccio almeno una volta fallo giusto e ce la fa mamma mia guarda come va sto andando 800 chilometri al secondo quadrato posso arrivare primo eh se continuo questo tempo forse no ok l'ho superato già di un casino e non gliela fa non ce la fa so qui mazza che botta oh mi hai soprato coglione in mezzo eh si eh si so quinto ora so sesto e tu settimo è poco però eh ed è poco che no benissimo l'ho fatto e devo riuscire a fare bene il primo diciassettesimo ma no e io non gliela fa far bene quello che se riuscissi andavo andavo a velocità di Gesù 43 secondi ma porco disco è disco si è disco dai tuns tuns 35 secondi dai questo è l'ultimo punto lo faccio tutto questo è l'ultimo punto ah intanto ragazzi avete visto il nuovo snapshot che è uscito di minecraft te l'hai visto? che è snapshot? lo snapshot di minecraft 3dcv 38 no è 3dcv 38c quella cosa di portali? no quello dopo che è appena uscito l'altro giorno e che c'ha di bello? eh sai che c'era il tastino quello super secret setting no eh? cos'è super secret setting? eh vabbè nelle opzioni c'è un nuovo tasto che si chiama super secret setting se lo clicchi prima non faceva niente adesso invece dà degli effetti stranissimi a minecraft infatti ragazzi non so se farci un video su quello snapshot farvi vedere cosa hanno messo no è finito eh si eh si ok ragazzi io direi di chiudere qui il video spero che vi sia piaciuto lasciate tanti mi piace eh cioè soltanto ragazzi perché c'è Brasile qui quarto Brasile comunque ragazzi se volete vedere altre gale gale si le gale perché noi siamo ginesi eh si non si che si guarda sta mappa vabbè no è ormai quindi ragazzi ciao a tutti se volete vedere su Twitch scrivetevi su commenti ciao a tutti 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 ciao a tutti